Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci in compagnia di Cristina Murgiano, che è una cantante, ballerina, attrice, ha fatto dei musical, eccetera. Perché? Perché oggi dobbiamo parlare un po' di come rilassare i nostri muscoli prima di cantare e quindi Cristina ci farà vedere degli esercizi che servono proprio per il rilassamento muscolare a livello di spalle, collo, faccia, orecchie, capelli, tutto. Dopo l'asile. Ciao a tutti ragazzi, grazie Mario per avermi invitata. Grazie a te per essere venuta. Iniziamo subito con alcuni esercizi. Sì, partiamo con alcuni esercizi di rilassamento per i muscoli del collo e delle spalle. Io li posso fare insieme a te così, vediamo se funziona. Sì. Partiamo con rotazione del capo, prima verso destra e poi verso sinistra, ripetendolo alcune volte, così. In questo modo lento. Scricchia tutto. E ricordiamoci sempre di respirare in maniera lenta, rilassata e anche abbastanza profondamente. Dopo un altro esercizio che possiamo attuare è quello della flessione del capo, in avanti e indietro. Un altro esercizio utile è quello della rotazione del capo, verso destra e verso sinistra. Io sto continuando a respirare. E ricordiamo sempre di avere una posizione retta, braccia lungo i fianchi e gambe semidivarecate e piedi paralleli. Ok. Io ero quasi corretto. Eri quasi corretto. Sì. Un altro esercizio è quello della rotazione invece delle spalle. Ok. Per sciogliere un po'. Per sciogliere un po'. Sì. Le tensioni a livello delle spalle. Delle spalle. Bene. Poi ci rilassiamo. E questo solo all'indietro o anche in avanti? Anche in avanti. Anche in avanti. Sì, certo. Ok. In avanti. Mi piace questo esercizio. Sì. E poi ovviamente tra un esercizio e l'altro cerchiamo di prenderci una piccola pausa di qualche secondo. Di scaricare un po' la tensione. Ok. E ricordiamoci sempre di respirare in maniera molto rilassata e altrimenti non serve. E gli esercizi non servono a nulla. Eh beh, certo. Se... Non serve a niente. Sì. Cioè, sempre ovviamente tipo... Om. Sì. Respiriamo e siamo tranquilli. Un altro esercizio che possiamo eseguire è quello di portare le braccia in alto, tese. Spalle cerchiamo di lasciarle in posizione naturale, non alziamole. Quindi non portandoci dietro. No. Ma così. Vacino retroflesso, gambe sempre semidivaricate e piedi paralleli. Ok. Pongiamo le mani e cerchiamo di arrivare più in su possibile con le braccia, sempre mantenendo però le spalle rilassate. Ok. E rimaniamo in questa posizione per dieci secondi. Ok. Massimo. E poi rilassiamo. Ah. Wow, che bello. La sensazione è proprio di... Si sciolgono veramente... Si sciolgono. Il sangue inizia a scorrere. A scorrere. Sì, sì. Ehm... Ora passiamo ad altri esercizi per quanto riguarda il rilassamento dei muscoli facciali. Del viso. Anche perché quando si canta si utilizzano i muscoli del viso, quindi è giusto rilassare. Possiamo, il primo che possiamo spiegare, partiamo dalle mani, le poggiamo in corrispondenza subito dopo l'orecchio, dove si congiungono proprio le ossa della mandibola. Ah. E apriamo piano piano la bocca e poi la ripidiamo così. Arriviamo proprio all'estensione massima, all'apertura? Eh sì, senza però... Senza forzare. Sforzarci. Ok. E questo anche per qualche secondo. Ok. Poi rilassiamo e cerchiamo di tenere un po' l'apertura della bocca poco poco aperta. Ah, ok. Quindi senza serrare. Senza serrare. Senza serrare. Per sentire proprio tutto il muscoli, la zona rilassata. Un altro è il bubble, senza emissione di suono. Sì. Quindi inspiriamo ed espiriamo. Ho anche detto lip roll. Lip roll. Ok. Un altro è quello del bacio sorriso. Ah ok. Qual è il bacio sorriso? Diamo prima un bacio e poi sorridiamo. Ah ok. Questo è sempre per i muscoli del viso. Sì. È bellissimo. Vi sentirete così stupidi. È vero? Molto, moltissimo. Sì. È bellissimo. Poi il bacio e il sorriso sono due movimenti che portano comunque credo benessere in generale. Sì. 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 Quindi ci rilassano anche. Bellissimo. Vabbè questo, più o meno. Sì. Sì. Poi ce ne sarebbero tanti altri, però questi diciamo. Però diciamo fondamentalmente fare dieci minuti, diciamo in totale, questi esercizi ci aiutano a rilassarci, a rilassare tutti i muscoli del viso e continuando a respirare correttamente e quindi ci aiutano ad affrontare poi meglio tutti gli esercizi del canto. Mhm. Ok. Del canto, della recitazione anche eccetera. Va bene. Grazie Cristina. Grazie a te Mario. Io sono tutti qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.